Ciao, oggi prepareremo dei soffici pancake, bastano pochi minuti e faremo una colazione super deliziosa Cominciamo Mischiamo la farina con zucchero e sale Unire anche il lievito per dolci In un'altra ciotola mettere il latte e unire l'uovo leggermente sbattuto E due cucchiaini di burro ammorbidito e fuso Possiamo aiutarci con il microonde, basta riscaldare 30 secondi il burro Lavorare e unirlo poi alla farina Aiutarsi con una forchetta o un frustino fino a che i grumi andranno via E risulterà liscio Lavorare e uniretino Lascia riposare qualche minuto Mettere nella padella antiaderente del burro Una volta fuso, versare la dose desiderata Si possono fare dei mini pancake o grandi Io ho usato un piccolo mestolo ed ho ottenuto 6 pancake Una volta versato il composto Tendiamo che nella superficie si formino le prime bollicine In questo preciso istante possiamo girare i nostri pancake Io per gusto personale ho girato più volte i miei Non preoccupatevi se li vedete spessi devono essere proprio così Mi raccomando, date spazio, non inserite tutto in una volta Così da facilitare i movimenti nel girarli Così da scuola, date spessi devono essere proprio così una volta pronti passiamoli in un piatto possiamo fare più strati e mettere in cima una nocciolina di burro e versare poi dello sciroppo d'acero oppure possiamo gustarlo con dei mirtilli o inserirli nella pastella o aggiungere delle gocce di cioccolato delle fettine di banana insomma qui si parla di colazione ed una colazione deve sostenerci fino all'ora di pranzo o dello spuntino di metà mattina siamo giunti alla fine di questa golosa ricetta spero come sempre sia stata di vostro gradimento grazie per aver visto il video per sostenermi e per condividere le mie ricette